Kate Middleton è la diva 2017, battuta Belen Rodriguez La futura regina dInghilterra Kate Middleton ha conquistato il cuore degli italiani diventando la nuova diva 2017. Il sondaggio commissionato a Euromedia rese arch dal settimanale Diva Donna ha dato vita a diversi colpi di scena. La maggior parte degli italiani intervistati hanno espresso delle preferenze inaspettate in merito alle dive italiane. Sembrerebbe infatti che la nuova diva 2017 sia la futura regina dInghilterra Kate, moglie del re William. Questultima riesce ad ottenere bene il sedici delle preferenze, ottenendo un vantaggio e una distanza irraggiungibile dalle altre dive. . Ciò che sorprende è la posizione della showgirl argentina Belen Rodriguez, la quale negli anni precedenti riusciva sempre a posizionarsi tra i primi posti. . Questanno non è così. . . Dopo Kate Middleton, infatti segue la conduttrice Larry Blasi con l11 delle preferenze. . Mentre in terza posizione cae la conduttrice Barbara D'Urso, la quale ottiene il 10 dei voti. . . Queste le dive del 2017 che hanno raggiunto la vetta secondo lopinione e i gusti degli italiani. . Belen e Chiara si aggiudicano posizioni inferiori. . Il sondaggio ha sorpreso e non poco in merito alla preferenza degli intervistati, i quali dovevano basarsi su diversi aspetti. . . Inoltre dopo la conduttrice Barbara D'Urso, seguono la svizzera Michelle Hunziker riuscendo ad ottenere il 9,5% delle preferenze, e l'imprenditrice italiana Chiara Ferragni, la quale ottiene l8% dei voti. . . Devono invece accontentarsi di posizioni inferiori, avendo ottenuto voti molto più bassi, la showgirl Belen Rodriguez, Charlotte Casiraghi, Asia Argento, Elisa Isoardi e Antonella Clerici. . La loro preferenza oscilla dal 4 all 1. . . Kate batte tutte le dive italiane. . Tale sondaggio si è basato su dei canoni e delle caratteristiche che contraddistinguono le dive prese in considerazione. Kate Middleton ha battuto le dive italiane grazie alla sua personalità, al suo carisma, ma non solo, anche la professionalità e bellezza. . . . . . . .